pensavo di essere morto quella quella è l'isola ci sto arrivando quella è l'isola non ci posso credere allora forse sarò ancora viva per vederla forse si devo lottare devo cercare di non perdere troppo sangue maschera fai un calcolo delle ore dimmi le ore adesso che ore sono 13.55 ora li ho prestabilito 4 tra 3 ore sarei arrivato e devo resistere per ancora 3 ore allora chissà cosa succederà chissà cosa succederà allora se arriverò se arriverò prima che muoio oppure arriverò e qualcuno mi medicherà c'è una montagna la vedo non riesco a vedere molto bene la storia sta sorgendo credo sta tramontando non vedo bene purtroppo no 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 cercare di stare in vita per i miei amici per iris per tesi devo restare in vita per tutti per tutti coloro che amo che voglio bene posso combatterò fino all'ultimo devo farlo devo combattere fino all'ultimo registrazione della maschera completata per ora questa registrazione può finire qua chiudere la registrazione 3